Cominciò a correre la voce che non fosse occorso un solo decesso in tutto il paese. E noi ci carichiamo di trasportare discretamente i moribondi al di là della fronte. La nostra assemblea si è riunita eccezionalmente in questa mattina per esaminare la gravissima, gravissima crisi in cui versiamo a causa della mancanza di decessi in tutto il paese. La morte è lo strumento usato appena rai cammini in tipo un'arba spolegnoso. Via signori! Grazie a la vita che mi ha dato tanto, mi ha dato la marcha di dei miei piedi cansati, con loro anduve, ciudades e charcos, playas e desiertos, montañas e llanos, in la casa tuya, tu gaiei, tu patio. La chiesa è quanto più solda quanto più copiosi sono i fiumi di sangue versato per significarne il fondamento. Quanto pare ha deciso di sorprendermi ad ogni parola che dice. ci sta a lei decidere fino a che punto sarò capace di sorprenderla. La chiesa è stata di sorprendere un'arba sposa sulle luci, le pietro luci, le pietro controllo. L'està di vento, le pietro, le pietro città, Grazie a tutti. Grazie a tutti.